Chi ha scritto opere che hanno lasciato il segno ha la disgrazia di non poter morire. Così finisce per trascorrere l'eternità in luoghi distanti e vicinissimi, come per esempio la luna. Viciutempio è una delle anime immortali di Catania, non tanto per le sue poesie erotiche, quanto per poemi di grande valenza sociale come la carestia. Per parlare di Tempio in uno spettacolo teatrale bisognava però trovargli un interlocutore che fosse diversissimo eppure uguale, giovane quanto lui era anziano, battagliero quanto lui era pacifico, spocchioso quanto lui era ironico. Lo trovai in Cirano, il primo scrittore di fantascienza. Era come amicio considerato un libertino. Entrambi avevano la poesia nel sangue e avevano studiato da preti. Così Micio e Cirano, nel loro lunatico esilio, rubando ausili tecnologici, osservano il nostro mondo, a cominciare dalle eruzioni dell'Etna e dai fuochi di guerra in Europa. E litigano, ma si ritrovano subito sul piano di un'umanità che non riescono a perdere neanche tanti anni dopo la loro morte carnale.